Buona domenica cari telespettatori e ben trovati con la nostra appuntamento tradizionale della rubrica La gioia del Vangelo. Ci troviamo oggi a Mileto, questa città in provincia di Vibo Valencia e siamo di fronte a questa splendida e maestosa Basilica Cattedrale, sede del Vescovo della Diocesi di Mileto Nicotelatropea. La cattedrale da cui oggi trasmettiamo il commento al Vangelo risale al 1930 essendo stata costruita dal Vescovo del tempo Monsignor Paolo Albera sull'edificio preesistente ottocentesco che era stato distrutto dal terremoto del 1905-1908. Nel 1990 questo edificio ha visto anche degli importanti interventi di ristrutturazione a livello funzionale dal Vescovo del tempo Monsignor Domenico Cortese e l'attuale Vescovo Monsignor Luigi Renzo non soltanto ha ulteriormente fatto altre modifiche all'interno della cattedrale ma soprattutto nel 2016 ha voluto che questo importante edificio sacro fosse elevato da Papa Francesco a Basilica Minore. Ci troviamo qui su questo bellissimo sagrato di fronte a questo portale, il portone di bronzo, portale principale dell'ingresso della cattedrale che è stato realizzato dall'artista Michele Zappino ed è un portone in bronzo su cui sono scolpite delle scene sia nella porta centrale che in quelle laterali delle scene riguardanti la vita di Gesù, la natività, la crocifissione, la morte, la resurrezione di Gesù e c'è anche l'immagine di Monsignor Cortese che è il Vescovo che nel giubileo del 2000 ha voluto realizzare questa importante opera. Insieme alle porte di bronzo proprio nel giubileo del 2000 Monsignor Cortese volle anche che dinanzi alla cattedrale realizzate queste due statue alte due metri, una di Cristo Redentore e l'altra del Papa San Giovanni Paolo II. Dicevamo che questa cattedrale è maestosa ed è una basilica imponente, pensate un po' che è lunga 56 metri e 26 metri di larghezza ed è intitolata a Maria Santissima Assunta e San Nicola che è il patrono della diocesi di Mileto, Nicotera Tropea. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se lei ha ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. Cari amici, al centro del Vangelo di questa domenica c'è l'amore e non il divorzio. Anzi, il Vangelo è come se volesse ridirci in maniera chiara qual è il segno e il progetto di Dio sull'umanità, sull'uomo e sulla donna. I farisei fanno a Gesù una domanda molto maliziosa. Vogliono sapere qual è l'opinione di Gesù circa una questione che stava, era molto dibattuta in quel periodo nelle scuole rabbiniche, la questione del ripudio della moglie. Ma ai farisei in realtà interessava sapere qual era appunto la posizione di Gesù per coglierlo in fallo, per poter anche puntare il dito contro di lui. Gesù cosa fa? Gesù non risponde alla loro malizia, ma Gesù si manifesta come una persona che si sente a disagio con i cavilli della legge, con la cosiddetta casistica. Gesù è uno che non riesce a respirare dentro la durezza del cuore in quello della legge e proprio per questo nella sua risposta c'è una boccata di ossigeno, potremmo dire, in cui Gesù sente la necessità di ridirci appunto qual era il progetto originario. Infatti alla domanda dei farisei lui dice all'inizio non fu così. Qual era il progetto degli inizi? Il progetto degli inizi era diverso, era un progetto contro la solitudine. Quanto è illuminante la parola che troviamo all'inizio della storia dell'umanità, non è bene che l'uomo sia solo. A Dio sta a cuore che nessuno si senta soffocare della solitudine e così il libro della Genesi ci racconta di come Dio crea l'uomo e quando crea l'uomo vuole mettergli accanto un aiuto che lo aiuti appunto a vincere la propria solitudine. E quest'aiuto non sono certamente gli animali, non sono certamente le cose. Il testo della Genesi poi dice che Dio crea la donna e la pone accanto all'uomo. crea questa coppia perché la solitudine dell'uomo possa essere vinta e superata appunto dal dono dell'alterità. Gesù allora risponde ai farisei affermando che la legge del ripudio fu data certamente da Mosè ma fu data per la durezza del cuore e non per un disegno di Dio. Durezza del cuore e sogno di Dio non coincidono anzi confliggono tra di loro. In principio non era così. E allora siamo chiamati in questa domenica a recuperare questo contenuto fondamentale della storia, della vita dell'uomo e della donna. Siamo chiamati a tornare al principio, siamo chiamati a tornare al sogno secondo il quale l'amore tra l'uomo e la donna è un amore per sempre. Gesù allora riporta i suoi interlocutori maliziosi ma riporta anche noi a riscoprire la bellezza dell'alleanza matrimoniale, a riscoprire la bellezza di quel Vangelo della coppia che è il sogno di amore di Dio. L'indissolubilità del matrimonio che spesso oggi è fragile, che spesso oggi viene messa in discussione non è un cappio ma è il cuore di quell'esperienza. Ogni coppia, ogni uomo e ogni donna sono chiamati a trascrivere con la propria vita nel mondo l'amore di Dio e l'amore di Dio è un amore fedele, è un amore fecondo e un amore appassionato. Peccato che noi oggi questa realtà l'abbiamo ridotta e la consideriamo soltanto in termini di norma, di precetto. Pensiamo per esempio a quante volte la stessa fedeltà viene ridotta a non tradire l'altro, ma la fedeltà non è soltanto il tradimento del proprio coniuge, ma la fedeltà dice la fiducia nell'altro, la fedeltà dice la passione per l'altro, la fedeltà dice la scommessa sull'altro e allora soltanto se ogni giorno siamo in grado di rimisurarci con il sogno di Dio che noi possiamo riscoprire la bellezza della vita e la bellezza dell'amore. E allora forse più che giurarsi per sempre amore o promettere di stare insieme per sempre, oggi credo che la cosa che bisogna fare è quella di impegnarsi tutti a tenere per sempre vivo la realtà dell'amore. Per fare questo è necessario, dice Gesù, diventare come i bambini. Per fare questo è necessario avere un cuore nuovo, il cuore dei bambini che vengono condotti a Gesù. E allora questo è l'augurio che ci facciamo questa domenica, di avere anche noi questo cuore di bambini capace di riscoprire la povertà della nostra vita, capace di avere fiducia nel Signore, capace di vivere fino in fondo la bellezza dell'amore umano. Buona domenica a tutti.